Noi vogliamo che il maggior numero dei nostri concittadini soprattutto over 65 si vaccinino, anzi speriamo tutti, per questo stiamo facilitando l'organizzazione. Da oggi i medici di medicina generale possono prenotare e andare a ritirare più volte i vaccini, i sieri, presso la loro farmacia più vicina. Soprattutto le donne in gravidanza, anche i bambini sopra i sei mesi immunodepressi o che hanno alcune problematiche, tutti coloro che stanno a contatto con i bambini o con coloro che possono avere virus e germi, quindi immaginiamo il personale sanitario ma anche il personale della scuola. Si hanno aderito tutte le farmacie del territorio e come vi dico da oggi possiamo già ritirare quelle dosi che il medico ha a disposizione per i propri malati, gli anziani, le donne in gravidanza. Vogliamo veramente dare una mano a regione e aumentare la copertura vaccinale. Allora il medico finisce la sua scorta sarà la T.A.S. che inserirà sempre all'interno dei programmi informati con il numero di dosi successive e su quello naturalmente ci sarà una seconda ordine e quindi una seconda consegna. Quest'anno c'è un vaccino quadrivalente su quattro ceppi.